E' andata male, causa assenze o perché il Campobasso era obiettivamente superiore al Venafro? Il Campobasso era obiettivamente più forte al Venafro, ci abbiamo messo il nostro con le assenze, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, cercare di limitare danni, data la superiorità dell'avversario. Siamo rimasti in partita fino all'ottantesimo, poi il Campobasso ci ha castigato appena ci siamo scoperti un po', abbiamo preso il secondo gol. Ma il difetto maggiore qual è stato? Io direi che è stato un Venafro che ha creato davvero pochissime in attacco. Sì, purtroppo è una coperta corta, se ti difendi bene e cerchi di rimanere in partita crei poco avanti, io ero l'unica punta e forse non riusciamo ad accompagnarmi bene, però il Campobasso è stato superiore, ci ha concesso poco, mancava anche fazze a loro, quindi penso che il risultato sia giusto. Adesso sembra che parlo solo male di questo Venafro che però è quinto in classifica, state facendo un campionato straordinario e la state anche difendendo con ardore questa quinta piazza playoff. Sì, cerchiamo di giocarci le prossime partite, sono cinque partite alla nostra portata a Portabili dove cerchiamo di ottenere il massimo dei punti, cominciando sabato da Pozzilli. Abbiamo come obiettivo di centrare il playoff, sappiamo che non è facile, anche per il distacco dei punti con il Monti Dauni, ma siamo là, siamo dignosi in casa, facciamo le nostre partite e cerchiamo di arrivarci. La prossima Campobasso, Vasto Girardi ti fate per il Rosso-Blu? Sì, tutte le partite ti fate per il Rosso-Blu, anche perché devono affrontare tutte quelle... In particolare la prossima? Sì, in particolare la prossima perché Vasto Girardi è cinque punti sotto, domani non so cosa farà, ma cerchiamo di bandire questo distacco e appunto come detto prima andiamo a giocarci sabato a Pozzilli, cerchiamo di ottenere la vittoria e raggiungere i playoff. Grazie a tutti.